Dai consigli per stare a tavola, pulirsi la bocca prima di bere o ancora pane e grissimi si spezzano sul piatto, a quelli sull'estetica, trucco da giorno per lui, barba ben curata per lui. ELABC del fare bene. Pratico vademecum sul cerimoniale e protocollo degli enti territoriali a uso dei sindaci e dei piccoli comuni, una sorta di sintesi dei testi classici su cerimoniale e regole di comportamento istituzionali, scritto dal cerimonialista Giovanni Battista Borgiani, di cui il riferimento più noto è un volume di 450 pagine, curato da Massimo Sgrelli. Le ultime delle 75 pagine dell'ABC si soffermano su aspetti più personali come l'uso delle posate a tavola, l'igiene personale. La regione FVG ha inviato ai sindaci e immediatamente è stata la polemica. Il primo a sollevarla è stato Pierluigi Mollinaro, sindaco di centrodestra del piccolo comune di Forgaria nel Friuli Udine, che ha interpretato l'iniziativa come un'offesa, tralasciando le regole essenziali del cerimoniale di Stato riportatevi, modalità di esposizione delle bandiere, utilizzo della fascia tricolore, lettere e messaggistica istituzionale, precedenze e piazzamenti a tavola e nelle sedi istituzionali, risentendosi invece per le istruzioni sul vestiario per signore e signori, oppure, giustamente, alle indicazioni sul fatto che non si parla a bocca piena e si mastica con la bocca chiusa. Anche come mangiare e bere? Cancelletto siamo allo sbando, Cancelletto Regione FG, Cancelletto Sindaci, Cancelletto Serracchiani, Cancelletto Vedemecum chi paga? X tutti i Cancelletto Sindaci o solamente X quelli, Cancelletto Nauti, Chiocciola Gigi Dimeo Direct, Chiocciola Mattia Pertoldi, Cancelletto Fuace Friul, Cancelletto siamo Friulani e Cancelletto Sindaci di Montagna Cancelletto accanto all'agente pic.twitter.com.kdmfeni86fo Sono dispiaciuta per la polemica politica che è stata fatta crescere su questo manuale, mandato con le migliori intenzioni. Le precisazioni inutili possono esserci ma strumentalizzazioni sono molto peggio, ha detto o la NSA la Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, la quale ha firmato la lettera che accompagnava il manuale. La Presidente ha poi spiegato che l'idea era di fornire un aiuto per i sindaci, in particolare dei comuni più piccoli, che in questi anni si sono rivolti al cerimoniale della Regione per chiedere un consiglio, non negando certi passi un po' puntigliosi. La solita polemica politica in un bicchier d'acqua. Che il livello sia uno strumento professionale lo garantisce anche l'Associazione Nazionale Cerimonialisti degli Enti Pubblici, ANCEP, che in dicembre lo ha presentato in un incontro di ANCI Veneto, indicato per sindaci e amministratori di enti pubblici. Al contrario, il Vice Presidente Nazionale della ANCI e Sindaco di Pergola, Francesco Baldelli, esprime solidarietà ai sindaci FVG e chiede maggiore serietà ai rappresentanti degli enti sovraordinati che, con queste assurdità, dimostrano di essere lontani dai veri problemi che riguardano i sindaci, i comuni e le tante famiglie italiane in difficoltà.